Devi scegliere chi mandare in nomination insieme ad Edoardo Franco tra Alvina, Edoardo Stoppa o Aras. Una decisione fondamentale. Alvina l'ho appena salvata, quindi non la rimetto. Dovrei scegliere tra Edoardo Stoppa e di Aras. Aspetta, aspetta. Allora, Edoardo, veramente dall'inizio, le porto il rispetto sempre. Mi sono appassionato a lui, però quello che ha detto oggi, quello che ho sentito, non mi era piaciuto, in verità. E mi ha un po' spezzato il cuore, mi ha un po' deluso. Però, io non voglio fare i picchi e voglio dimostrargli che io sono una persona per bene e quindi non lo scelgo. Vabbè, accettiamo ogni motivazione, anche se è un po' arzigogolata, ma va bene. Quindi, vanno al televoto Edoardo Franco e Aras. Grazie. 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 Grazie.